bella a tutti raga da pazzo simpatico siamo su questo gioco che sarebbe eros chargi non so come si pronuncia non mi interessa comunque raga facendo il duello nella rima non sono sbloccato qualche altra cosa io sono nuovo su sto gioco non è che ci capisco chissà quanto comunque mi sembra che ho sbloccato un bracciale qualche cosa del genere pratica maschera della dell'acoli accolito hazard non so come si pronuncia magazzino 0 c'è volare la ricetta ok lo troviamo equipaggiamo equipaggiamo quindi adesso il mio soldato dovrebbe essere ancora più forte ora se qualcuno sa sto gioco come funziona ditevelo che sto impazzendo perché non riesco a capire a cosa servino tutte queste c'è questa roba qua queste qua raga che cavolo servono io non ho la più pali d'idea di cosa servono tutta questa roba qua se qualcuno ti vuoi ci gioca a questo gioco mi potrebbe rispondere altrimenti devo impazzire su youtube a vedere cosa servono ma ciao a tutti comparabili